Ciao a tutti e benvenuti nel canale. In questo video vi spiegherò come completare la terza e ultima sfida degli ignomi, quindi una sfida segreta, per Fortnite dopo l'aggiornamento di oggi. Questa sfida, contrariamente alle precedenti due, non richiede di atterrare dove ci sono gli ignomi, ma dovete disinnescare delle bombe, ovviamente degli ignomi. Ci sono diverse bombe, in questo video vi mostro la loro esatta posizione. Partiamo dalla prima bomba che si trova praticamente qui a siepi d'agrifoglio, dove avete anche sbloccato, almeno credo, il baby Groot. Quindi dovete atterrare qui, dove sta atterrando anche quest'altro giocatore. Adesso vi mostro l'esatta posizione della bomba. No, è andato oltre. Ok. Eccoli qua gli ignomi, li vedete già dall'alto. Dovete praticamente avvicinarvi e disinnescare questa bomba. Passiamo alla seconda. La seconda bomba da disinnescare si trova qui, a scogliere scoscese, quindi in alto qui. Ci siamo quindi spostati da siepi a scogliere. La bomba si trova sotto questa casa. È facile alla fine da individuare. mi basterà atterrare qui e disinnescarla. Passiamo alla terza bomba. la terza bomba si trova a brughiere brumose. Quindi siepi, scogliere, brughiere. E si trova per la precisione sotto questo ponte. Molto semplice, facilmente individuabile, non potete sbagliarvi. Atterriamo qui. E come vedete ci sono i nani o gli ignomi. Ecco qua. Andiamo alla quarta. La quarta bomba si trova praticamente qui a foschi fumaioli. Quindi siepi, scoglieri, brughiere, brughiere e foschi. Questa è la quarta bomba di cinque. Dovete atterrare a foschi fumaioli e prendere in considerazione questo fumaiolo. Quindi atterrate qui. Potete già vederli. Eccoli qua. E qui c'è la bomba da disinnescare. Andiamo all'ultima bomba. E questa è l'ultima bomba. Quindi siepi, scogliere, brughiere, foschi, sabbie sudate. L'ultima bomba da disinnescare si trova qui, a sabbie sudate. Qua praticamente. Dove c'è questo edificio con il giardinetto. Adesso vi mostro la posizione dei nani. Così, se avete seguito i precedenti punti, avete disinnescato tutte le bombe. Eccolo qua. Il giardinetto. Ho preso come punto di riferimento il parcheggio, ma i nani si trovano qui. I gnomi da giardino, per meglio dire. Eccoci qua. Questa è l'ultima bomba.